Nell'ambito dell'iniziativa Estate in Carcere 2024 organizzata dal Partito Radicale si è svolta una nuova visita ispettiva presso la casa circondaria Ledi Castrogno a Teramo alla presenza di numerosi esponenti del territorio. L'incontro ha avuto lo scopo di monitorare le condizioni delle detenute e dei detenuti e di confrontarsi con l'intera comunità carceraria. Durante la visita ispettiva si sono accesi nuovamente i riflettori su questioni annose come il sovraffollamento e la carenza di personale che continuano a tormentare la struttura teramana. C'è un problema sanitario dovuto al numero di detenuti attenzionati psicologicamente e psichiatricamente anche alcuni per cui c'è questo tipo di problematica. C'è la problematica poi sostanziale che è quella del sovraffollamento su 255 posti regolamentari, ecco ce ne abbiamo 357 tra detenute e detenuti. Quindi la situazione è una situazione di sofferenza. C'è la nuova direttrice, Maria Lucia ha avvantaggiato che in questi primi mesi si sta prodigando per risolvere delle questioni. L'ultima in ordine di tempo è che ad esempio non c'è un reparto, insomma una sede ginecologica. Queste sono questioni importanti, delicate, che vanno affrontate perché il problema nelle carceri è il problema di una disattenzione verso il grado di umanizzazione della pena. I rappresentanti dei radicali durante la visita hanno sottolineato che nonostante le numerose interrogazioni parlamentarie e proposte di legge presentate negli ultimi anni, poco nulla è stato fatto per affrontare e risolvere queste problematiche. Il governo non riesce a cogliere l'urgenza della situazione e non dà la risposta nei termini e soddisfacendo la condizione di urgenza. Pospone e non si può posporre, ormai non c'è più tempo.